Per il secondo anno consecutivo Noval organizza una fiera dedicata ai professionisti della ristorazione, tantissime aziende italiane sono giunte qui un po' da tutti gli angoli dello stivale per raccontare la loro esperienza nel campo della qualità e proporre i loro prodotti d'eccellenza ai ristoratori del territorio. Noi puntiamo assolutamente su prodotti di qualità, i nostri partner sono partner scelti per la qualità dei loro prodotti, per la loro collaborazione, per la capacità di innovare costantemente sul mercato. Il programma è questo che ho scelto sia in Noval che in Cooperativa dove sono anche presidente, è proprio quello di uscire dalla bagarre dell'anonimato, di uscire fuori purtroppo anche se c'è recessione, di dare prodotti di qualità con dei prezzi piuttosto competitivi o comunque abbastanza abbordabili a qualunque tipo di clientela. Noi prepariamo delle basi che possono aiutare prodotti da forno come coppette di cialda di diverso tipo sia dolce che salata, quindi che si adattano a fare dei finger sia dolci che salati appunto come dicevo. Abbiamo delle novità che sono i macaron, macaron aromatizzati quindi con diversi colori, a base mandorla, una meringa molto buona fatta in pasticceria quindi uno diverso dall'altro perché sono prodotti artigianali al 100%. Noi forniamo sostanzialmente la base asciutta, poi forniamo a parte le varie farciture che possono essere a base frutta piuttosto che a base crema quindi con delle farciture extra o delle confetture e marmellate con le quali prepariamo tutta una serie di specialità. Quindi abbiamo diciamo così coniato i finger fruit, proprio utilizzare l'abbinamento frutta e salato, il salato conservato che tutti utilizziamo con facilità proprio nell'attività di banketing, il bar che prepara degli happy hour eccetera, quindi il salato inteso come formaggio salume che ben si presta ad essere abbinato alla frutta, da sempre in realtà non ho inventato nulla, però quello che faccio invece che utilizzare la frutta fresca che è un po' più complicata da utilizzare proprio perché potrebbe cambiare colore, consistenza eccetera, utilizzo la confettura e quindi faccio degli abbinamenti anche molto simpatici che possono essere il fegatello con la confettura di marroni, piuttosto che il pesce spada affumicata con la marmellata d'arancia. Cioè noi ci sostituiamo sostanzialmente allo chef, al pasticcere con delle preparazioni che mantengano l'artigianalità e la professionalità che oggi come oggi è sempre più costosa, quindi per noi chef che collaboriamo con Iceberg vuol dire mettere a punto dei prodotti così come li farebbe il pasticcere, tali e quali, così come li farebbe lo chef. Quindi cosa facciamo? Utilizziamo materia prima, ottima, per avere un prodotto fantastico che possa soddisfare gli chef più esigenti, i pasticceri più esigenti. Iceberg nasce in realtà dalla pasticceria a gelateria che è risaputo rispetto alla cucina a dei margini di qualità più corti e quindi se abbiamo soddisfatto finora tutti i pasticceri non vedo perché non possiamo soddisfare gli chef di cucina. Iceberg nasce in realtà dalla pasticceria a gelateria che è rispetto alla cucina.